Ciao! È arrivato Piero, finalmente è tornato dopo 4 mesi, io ho detto oh Piero mi sto preoccupando però sapevo che doveva fare l'intervento al ginocchio Ok, allora voglio farti vedere il mio pacco mensile, aspetta che ho dimenticato Alexa, metti i timer 11 minuti 11 minuti? Non perché questo video durerà 11 minuti ma perché ho messo l'acqua sul fuoco quindi mentre finisco di cucinare voglio farti vedere cosa ho preso voglio dirti che questo pacco può aiutare i bambini orfani quindi mi raccomando guardalo fino alla fine specialmente se hai il cuore queste creature più svantaggiate ti spiegherò anche qualcosa per quanto riguarda il drenare o avere energia nel periodo estivo come puoi vedere inizio il periodo estivo inizio a presentarmi in modi osceni ok, iniziamo cosa non può mai mancare nel mio pacco benessere non nel mio pacco benessere mensile però cosa non può mai mancare a casa mia è il Super C l'integratore di vitamina C e manganese 120 capsule da noi dura due mesi perché ne prendiamo una io e una mio marito puoi prenderne anche di più al bisogno quindi quando inizia ad avere i sensi di raffreddore eccetera puoi prenderne anche due non succede nulla questo è l'integratore che mi ha fatto credere negli integratori non farmaceutici mi spiego meglio io ho sempre speso un sacco di soldi in farmacia ma proprio un sacco almeno 60 euro al mese per acquistare gli integratori che vedevo in pubblicità che mi dicevano che mi avrebbero dato energia mi avrebbero fatto stare bene ecco spendevo 60 euro al mese di questi integratori puntualmente però ci ritrovavamo a stare male quindi puntualmente dovevo riandare in farmacia per prendere altri prodotti che avevo visto in tv che costavano dai 30 euro in su quindi insomma un salasso mensile non parliamo poi di quando davvero iniziavano i freddi questo l'ho preso la prima volta con scetticismo perché nella mia testa non so perché ma non mi facevo tutti questi problemi con i prodotti che guardavo in televisione cioè li acquistavo perché la televisione lo diceva quindi quando è uscito questo anche se usavo il giallo e gli essenziali sono stata scettica ho detto saranno queste cose non funzionano l'ho preso così per provare e sono stata sbalordita dal scusate sbalordita davvero dal risultato perché abbiamo iniziato a prenderlo e io e mio marito abbiamo smesso di stare male mai successo tra l'altro costa cioè con questo io ci faccio due mesi in due persone no? rispetto a prima che comunque erano più di 60 euro al mese per sostenere il benessere mio e di mio marito quindi assolutamente top ho preso chiaro in offerta il ninja red che non ho tirato fuori prima dalla scatola non so perché forse perché a volte sono un po' gnugnug ma no non è vero solo intelligente solo che voglio fare tante cose sempre se ce la faccio vabbè te la faccio vedere così tadaaa allora qua ci sono quattro bottiglie di ninja red che è il nostro la nostra bevanda di super frutti vabbè poi te la metto nello story nella foto l'ho voluto prendere perché in questi ultimi due mesi io ho avuto ogni solito calo fisiologico e ho pensato di integrare no? questa è una bevanda che è piena di antiossidanti e ti fa quando la prendo mi fa sentire super energica aiuta a dormire a dormire bene quindi se hai difficoltà ad addormentarti ti aiuta a dormire bene ma durante il giorno ti aiuta anche a dare l'energia infatti oggi ho scritto nelle stories qualcuno mi può aiutare perché pensavo che il mio pacco non arrivasse e stavo crepando dal sonno oltretutto serve anche in famiglia infatti ho preso la scorta perché è scontato non so se al 10 o del 15% questo mese e mi trovo benissimo potrei dire altre cose ma non sarebbero tanto conformi quindi mi limiterò qui ok poi ho preso l'emongrass perché stiamo arrivando nella stagione delle zanzare eccetera e l'emongrass è super rinfrescante e tiene lontane le zanzare e quant'altro e questo è il mio acquisto diciamo personale e poi volevo dirti questo avevo in cuore questo mese di raccogliere dei fondi per i bambini orfani e ho pensato di fare una bella scorta degli oli più economici più come si dice più versatili e più utili di questo periodo ed è il limone il limone che può aiutarti a drenare quindi se ti vuoi preparare per la prova costume oppure se hai bisogno di bere di più e non ti piace e sei come me che se non bevi in questo periodo poi inizi a ritenere tutto quanto mi raccomando scrivimi se sei della mia zona o se riusciamo a vederci senza che faccia troppa strada tutto quello che riuscirò a guadagnare di questi prodotti tutto quanto verrà devoluto ai bambini orfani quindi tutto il costo del prodotto che tu acquisti per drenare per sostenere il sistema immunitario per rilassarti tutto quello che tu pagherai andrà devoluto agli orfani quindi se mi vuoi aiutare se ti vuoi aiutare se vuoi aiutare questi bambini ti faccio vedere questi sono tutti gli olietti scusa questi sono tutti gli olietti che ho acquistato no? quindi una sfilza di limoni menta peperita e lavanda menta peperita l'ho già data via e quindi mi è rimasto o il limone o solo una lavanda sono 5 ml ti lascio nelle mie storie i vari utilizzi fammi sapere comunque se hai un problema che vedi che non ho coperto nelle storie tu fammelo sapere perché questi oli sono portentosi è solo che nelle storie sono troppo brevi non posso raccontare tutto quindi magari ti può servire anche per un problema che io non ho nominato fammelo sapere sapendo che non ti rifilo un prodotto che non ti serve ok? ah i premi allora i miei premi per questo ordine hanno un valore di 138,11 euro ti rimostro questo è un olio lussuoso per i capelli ne ho già uno lo usa prevalentemente mia figlia per un semplice fatto che io non ho nessuno che mi cocco con i capelli però se sei patita di ho patito di cura dei capelli li vuoi luminosi eccetera questo potrebbe esserti molto utile poi humility sono molto contenta di averlo ricevuto come omaggio perché questo olio si chiama umiltà e promuove l'umiltà no? c'è lo stato d'animo e quando ho visto che c'era ho pensato io non ne ho bisogno quindi lo apro adesso allora è buonissimo molto delicata come fragranza e so che lo devo usare per il semplice fatto di come ho reagito quando ho visto che c'era questo energy sono contentissima volevo fare un video a riguardo a questa miscela perché io quando inizia il caldo inizio appunto a gonfiare e questa miscela a parte essere energizzante quindi a parte a essere ottima se devi darti da fare e c'hai poca voglia di fare come me in questo periodo ho notato che quando lo applico sui polsi e lo uso come profumo sono meno gonfia non ho idea del perché non ho idea del per come non ho neanche voglia di cercare il perché perché sicuramente c'è un perché ma sono contentissima di averlo trovato adesso sia per quanto riguarda l'energia che comunque mi manca e non voglio andare avanti di caffè sia perché appunto ho questo problema che ogni estate le persone vengono e mi dicono ma stai bene ti vedo gonfia è il mio organismo sono fatta così d'estate gonfio allora questo mi aiuta lo userò tutti i giorni jet lemon che non ho idea di cosa sia è una è un limone mi sembra che abbia origini cinese se mi ricordo bene è l'unico limone che quando matura è verde però è proprio limone ti farò sapere anche di questo spero che funzioni contro le mosche come il c'era un altro un altro olio che mi dicevano che funzionava contro le mosche spero che funzioni perché a casa mia vivo in campagna è penosa la situazione d'estate e poi c'è rosmarino super 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 contenta perché anche questo mi aiuterà a rimanere concentrata quando avrò finito energy o quando insomma devo lavorare poi mi piace molto la sua il suo aroma mi dà proprio la chiarezza mentale questo è tutto il mio pacco benessere mi raccomando se sei della mia zona quindi riva chi eri ni dipende o se sei della mia comunità o comunque se riusciamo a vederci senza far troppo casino e vuoi aiutarmi a raccogliere i fondi per i bambini orfani mi raccomando scrivimi puoi prenderne solo uno di olio tanto sono super ne basta una goccia nell'acqua ok per avere una bevanda rinfrescante puoi metterli nel tè servono molto a drenare in questo periodo puoi farci le torte puoi usarli nelle fragole ok invece di mettere il tuo limone ci metti una goccina di olio essenziale o anche la lavanda mi raccomando fai fatti del bene e fai del bene scrivimi anche solo per saperne di più per sapere del progetto e quant'altro ok grazie ciao ciao ciao